buonasera ragazzi buonasera a tutti buonasera allora ragazzi appena terminata la parte la prima partita di champions dinamokiv 0 juventus 2 doppietta di morata allora ragazzi allora permettiamo che non è che mi è piaciuta tantissimo diciamo che la dinamo non è una grandissima squadra quindi abbiamo fatto il nostro come dissi domenica è un cantiere aperto mancano anche tante persone perché comunque manca ronaldo mancava di bala entrato a secondo tempo e si è visto perché non ha messo pirlo sta ancora a tre cilindri mancava alessandro la gara fasce diciamo che c'è da lavorare come dissi la travo c'è da lavorare però è meglio vincere quando non giochi perfettamente c'è da lavorare andiamo con le pagelle che se non aspettiamo subito se non mi allenano no 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 no... allora ragazzi scussemi senza voto perché alla fine non ci equitti a livello un treno che era inSD nel 92 ma niente di eccezionale quadrato 6 e mezzo era sufficiente fino al bell'assist per il 2 a 0 alla morata quindi se lo merita tutto il 6 e mezzo potete fare una piccola attenzione perchè comunque terzino non è e giustamente non è attenzione, facciamo un come necchi Bonucci e De Miral 6 perchè De Miral era entrato al posto di Chiellini dopo 13-14 minuti come al solito Chiellini facciamo due partite e si mettono in casa Merit Danilo 6 né carne né pesce a me ragazzi Betancourt non mi è piaciuto per niente anche se mio figlio dice che è il migliore del centrocamo può anche essere il migliore del centrocamo secondo me lui è troppo montato e alle volte fa le cose con troppa sufficienza che spalandri sistematicamente si fa munire e quindi poi nel secondo tempo stai sempre al rischio di rimanere in 10 bene ha fatto Pirlo a toglierlo anche se lo poteva togliere 10 minuti prima quindi per me 5 e mezzo Rabiot 6 come Danilo né carne né pesce Coluseschi ragazzi io gli do la sufficienza ma come Chibdmank questa è la quarta partita io questo fenomeno ancora non lo vedo tranne il tiro del primo gol che Morata ha ribattuto in rete non è che ho visto un grande comunque 6 di stima Ramsey 6 Chiesa 6 e mezzo anche se può fare molto molto di più perché alla fine ha fatto belle giocate però arrivi in aria e si incartesce si deve migliorare però dell'attacco chiaramente tolto Morata mi è piaciuto di più di tutti 6 e mezzo Morata e come Chibdmank e mezzo la pallina ragazzi e mezzo la pallina quindi 7 innamorata qui c'è tra l'altro 7 Dybala 6 di incoraggiamento si vedeva che sta neanche il 50% comunque è buono che incomincia a mettere minuti nelle gambe 6 di incoraggiamento Bernardeschi Artur senza voto giusto e mezzo niente di che Pirlo era un 6 con il 2 a 0 vado sul 6 e mezzo però pure lui deve migliorare perché il centrocampo quando è preso in contropiede va sempre in sofferenza dopodichè Wagnè è riportato con la prima partita la prossima è con il Barcellona meglio di così non si poteva iniziare ragazzi io vi saluto da Via Capellini come al solito Forza Juve Forza le squadre italiane tutte va bene che si stiamo tutti come te Forza Juve vi voglio bene stringete e volete bene fincasti ciao Agnè salute da Via Capellini grazie 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 grazie